Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, oggi vi mostrerò un semplicissimo e molto breve tutorial per creare una filodiffusione in casa vostra qualora abbiate più dispositivi Amazon Alexa. Ovviamente, siccome ormai sono dispositivi molto diffusi e in ogni casa ce n'è più di uno, ho pensato di mostrarvi questa soluzione che io ho adottato già da diverso tempo appunto per creare la filodiffusione, perché in passato per fare una cosa del genere bisognava passare centinaia di metri di filo per portare praticamente il cavo audio in ogni altoparlante che mettevate nelle casse, oppure bisognava comprare degli altoparlanti bluetooth oppure, non lo so, ma sicuramente non era nessuna soluzione immediata e rapida come questa che sto per mostrarvi. Per cui, senza perderci in chiacchiere, ci spostiamo un attimo sull'app di Amazon, ovviamente, e vi mostro come si crea un gruppo di musica multistanza. Allora, ovviamente la prima cosa da fare è recarci all'interno della nostra app Amazon Alexa e dovete andare praticamente nella sezione che si chiama dispositivi, qui in basso a destra. Nella sezione dispositivi ovviamente troverete una sezione per ogni dispositivo che avete in casa vostra. Per creare il gruppo musica multistanza dovete andare qui nella sezione in fondo, nella sezione gruppi di altoparlanti. Io ho già creato ovviamente questo gruppo che si chiama musica multistanza, ovviamente voi tramite modifica nome potete andare a modificarlo e chiamarlo come vi pare. E trovate l'elenco dei dispositivi che sono riconosciuti dalla vostra rete. Se andate su modifica potete andare a fleggare, ovviamente nel mio caso sono già tutti selezionati perché li voglio tutti, ma voi potete andare a selezionare quelli delle stanze in cui volete la musica. Una volta che avete impostato, quindi selezionato i dispositivi che volete, vi basterà semplicemente poi appunto scegliere il nome e salvare. Una volta che avete salvato il gruppo, vi basterà semplicemente chiedere a uno dei vostri dispositivi di riprodurre la musica nel gruppo musica multistanza. Per cui adesso passiamo ad una dimostrazione pratica e vi faccio vedere come funziona. Ok, quindi come avete visto la configurazione è veramente molto semplice, molto basilare, per cui se tutto funziona come credo, mi basterà dire Alexa, riproduci musica classica su gruppo musica multistanza. La stazione musica classica da Amazon Music Vediamo se la riproduce su tutti i miei dispositivi. Qui sta suonando, adesso ci spostiamo nelle altre stanze e vediamo se suona anche negli altri punti. Allora, questa è quella del salone, come potete vedere sta riproducendo la stessa musica. Nella cucina riproduce lo stesso, la stessa musica, quindi siamo al terzo dispositivo che riproduce la stessa filodiffusione. Abbiamo il dispositivo della camera da letto, che sta eseguendo anche lei, diciamo, la stessa musica. E quindi siamo a quattro. E terminiamo con quella del bagno, che è il quinto dispositivo che sta riproducendo la stessa musica. Ovviamente voi, a vostra discrezione, potete agire sul volume. E ok, quindi, come avete visto, con pochissimi secondi abbiamo configurato una filodiffusione che praticamente vi consentirà di ascoltare la vostra musica in tutta casa, su tutti i vostri dispositivi Echo. Non conta quale tipo di Echo è, perché riconosce tutti, sia se è Echo Dot, Echo quello più lungo, Echo a palla, e quindi terza, quarta generazione, non cambia il risultato, è sempre lo stesso. Ovviamente potete stoppare la musica con il comando Alexa Stop. Chiaramente potrebbe non sentire come in questo caso, perché non mi sono rivolto direttamente a lei, ma sicuramente funziona tutto molto bene. Detto ciò, spero che questo brevissimo tutorial vi sia stato utile. In caso positivo lasciatemi il solito pollice in su. Vi ricordo che in descrizione troverete il link per il mio canale di offerte Telegram che ho riattivato, per cui dategli un'occhiata. E vi ricordo di iscrivervi al canale, così da non perdere i miei prossimi video. Io vi saluto, ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao! 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 Ciao!